Allora ragazzi, ciao a tutti ragazzi, io ho Giuseppe Workout e della mia super allieva Stefani, ok ragazzi, benvenuto all'attività ufficiale Elite Free Natural Street Workout .com Italy, ok ragazzi, oggi e Stefani vi mostreremo un mio programma personale, il my program system, ovvero Infernal Workout 1500 reps, non vi mettete paura, allora spieghiamo un attimo i 1500 reps, allora per i maschi ho messo pull up, push up e squat, ogni esercizio dovete fare 5 ripetizioni senza mai fermarvi, arrivare fino a 1500 reps totale, invece per le femminucce, cosa che ti farà Stefani e vi posso sapere dopo, Australia pull up, push up e svolte, tutte le sere da 5, ok, al limite alla fine ma non ce la fanno, fanno 3 reps, ok, sempre arrivare a 1500 ripetizioni, ok ragazzi, ovviamente questo programma l'ho fatto a tempo, vi mettete il tempo e meno tempo ci mettete bene, ok ragazzi, dai, let's go, let's go! a tempo! 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 Vieni da un'altra volta. Vieni da un'altra. A presto. A presto. A presto. A presto.